Sì ai test rapidi molecolari per la diagnosi del contagio da coronavirus con nuove priorità, in particolare verso gli operatori sanitari. Tutto messo nero su bianco nella circolare del Ministero della Salute che doveva dare risposte sulle priorità delle diagnosi e sulla affidabilità dei test stessi. Si può dunque procedere con i tamponi rapidi nasofaringei che accertano o meno la positività al virus sulla base della rilevazione dei geni virali nelle segrezioni respiratorie. Più cautela invece sui test sierologici quelli che evidenziano se nel sangue ci sono gli anticorpi che il sistema immunitario ha prodotto per difendersi dal coronavirus la cui presenza dunque corrisponde ad una positività al SARS-CoV-2. La circolare sotto questo profilo raccoglie le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità secondo cui i test sierologici sono molto importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale. Diversamente come attualmente anche l'OMS raccomanda per il loro uso nell'attività diagnostica di infezione in atto da SARS-CoV-2 necessitano di ulteriori evidenze sulla loro performance e sulla loro utilità operativa. In particolare si legge sempre nella circolare i test rapidi basati sull'identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 secondo il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico non possono allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica sostituire il test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei secondo i protocolli indicati dall'OMS. Insomma allo stato attuale i test effettuati sul sangue saranno più utili in futuro per una indagine su quella che è stata la portata generale dell'infezione, quanti ne sono stati colpiti ma per sapere ora nel più breve tempo possibile e con grado di certezza elevatissimo chi è positivo i tamponi nasofaringei restano lo strumento da utilizzare. Le diagnosi rapide vanno fatte agli operatori sanitari esposti a maggior rischio compreso il personale dei servizi di soccorso ed emergenza, il personale ausiliario e i tecnici verificatori per tutelare gli operatori sanitari e ridurre il rischio di trasmissione in ospedale. Per i sanitari si prevede una via accelerata che dà risponso entro le 36 ore. Gli operatori dei servizi pubblici essenziali sintomatici anche affetti da lieve sintomatologia per decidere l'eventuale sospensione dal lavoro. Operatori anche asintomatici delle RSA e altre strutture residenziali per anziani. Indicate infine le persone a rischio di sviluppare una forma severa della malattia e fragili come persone anziane con comorbidità. Nelle aree in cui vi è ancora una limitata trasmissione di SARS-CoV-2, se si dispone di risorse sufficienti vanno effettuati test diagnostici in tutti i pazienti con infezione respiratoria. I test non vanno effettuati in assenza di prescrizione medica o ospedaliera. La circolare dà anche il via libera al potenziamento delle attività dei laboratori regionali preposti all'analisi dei tamponi con ripercussioni anche in Abruzzo. Dalla prossima settimana annuncia il direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia clinica a Valenza regionale dell'asile di Pescara Paolo Fazzi aumenterà in modo significativo la capacità di eseguire i test. Dai 300 attuali arriveremo a 1000 al giorno, da metà aprile a regime riusciremo ad analizzare 2000 tamponi in 24 ore. Quando ci arriveremo potremo fare una vera mappatura del territorio, personale sanitario, operatori della sicurezza, forze dell'ordine, ospiti delle RSA detenuti. Il tutto conclude Fazzi riuscendo anche a dare una risposta nel giro di 24 ore. Al momento lavoriamo con delle priorità dando la precedenza assoluta a chi sta male.